Ben trovati al meteo. Aria fredda dal nord Europa continua ad affluire sul nostro territorio facendoci di fatto assaporare anche nella giornata di domenica 21 marzo un clima piuttosto pungente. Nel dettaglio sul Veneto la grafica ci mostra un tempo stabile ed in effetti avremo un ampio soleggiamento su tutta la regione con cielo sereno. Si farà vedere qualche nuvoletta di tanto in tanto ma senza ulteriori conseguenze. Venti piuttosto tesi e risveglio sotto zero dappertutto con temperature minime tra meno 5 e 1 grado massime invece tra 7 e 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo una bella giornata di sole anche qui senza piogge e con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra meno 2 e 1 grado massime sui 9-11 gradi. Uno sguardo per concludere al Trentino Alto Adige anche qui sarà soleggiato con qualche locale spruzzata di neve a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai meno 2 gradi massime sui 13-14 gradi. Dal Meteo per ora è tutto vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.